buongiorno ragazzi benvenuti alla lezione numero 33 oggi continuiamo il discorso sugli alberi di gioco in realtà l'abbiamo solo appena accennato iniziato ieri e questo ci accompagnerà per questa per oggi domani abbiamo laboratorio sicuramente per la prossima settimana ieri abbiamo soltanto dato qualche cenno relativamente alla storia di giocatori artificiali abbiamo detto che il vero primo giocatore artificiale si nel 97 diciamo che il giocatore di scacchi artificiale di ibm di blu batte casparo però in realtà solo negli anni seguenti i giocatori di scacchi artificiali sono diventati davvero molto forti tanto che ormai non è solo pigli scacchi ma in realtà per tutti i giochi da tavolo e si organizzano dei tornei tra intelligenze artificiali tornei che per ultimamente vince sempre google tramite tecniche di apprendimento profondo di deep learning machine learning che sono argomenti che noi trattiamo alla magistrale tra l'altro una cosa curiosa magari rispura mostrarvela le tecniche di deep learning sono stati in grado non solo di imparare i giochi da tavolo quindi scacchi dama go bagamon tutti i giochi insomma che hanno una scacchiera e delle regole ben definite ma in realtà sono stati in grado anche di imparare per esempio a giocare a per esempio a giocare a doom ai place doom doom è uno sparatutto il primo forse first person shooter in 3d della storia e le intelligenze artificiali basate su deep learning sono in grado di quello che vedete in questo momento non è un essere umano che sta giocando ma è una macchina sta vincendo praticamente questo dovrebbe essere una modalità death match cioè più ne ammazzo più vinco la velocità adesso voi con google meet probabilmente non apprezzate metto in pausa perché il frame rate non è non è fedele però ragazzi questa è una intelligenza artificiale che si muove nel livello con altri giocatori umani tra l'altro questo è un death match contro persone multi giocatori si muove ad una velocità cioè prende decisioni in un istante vince non dà modo ai giocatori umani di avere la meglio questo è stato fatto nel 2016 siamo nel 2020 adesso non dico che sono in grado di giocare a grand theft auto però la classe c'è una classifica con quali giochi sono stati tra virgolette risolti dall'intelligenza artificiale cioè in cui l'intelligenza artificiale gioca meglio degli umani ecco questa classifica si sta sempre più diciamo sempre più giochi diventano di dominio dell'intelligenza artificiale sempre meno giochi rimangono di dominio dell'intelligenza umana e penso che veramente entro pochissimi anni avremo intelligenza artificiale in grado di giocare meglio degli esseri umani in qualunque gioco ok qualunque questo un po può destare qualche sorpresa ok e tra l'altro quello che ho fatto fare una cosa molto più no in realtà è una cosa simile a quella che abbiamo visto qui con con doom non so se riesco a recuperarlo quello che forse dovrei riuscire a recuperarlo che ho fatto fare in un progetto della magistrale ve l'avevo detto che avrei fatto avrei fatto implementare a dei studenti della magistrale il giocatore di super mario questo è un piccolo un piccolo estratto del loro del loro progetto non so se riuscite a vedere ecco sta per partire quello che vedete adesso io magari vado a rallentatore perché il frame rate di nuovo di mit non vi consentirebbe di apprezzare quello che succede quello che state vedendo è un mario pilotato esclusivamente da un intelligenza artificiale ed è un mario che ha imparato a giocare ci ha messo un paio di giorni per imparare a giocare a super mario e ovviamente imparare a giocare significa trovare anche una strategia una strategia che consente di arrivare alla fine del livello nel miglior tempo possibile non morendo eventualmente prendendo dei bonus se ritiene l'intelligenza artificiale di prendere questi bonus l'interesse artificiale ha ritenuto che la cosa migliore da fare è partire sparati e non fermarsi mai quindi c'è un nemico devo andare avanti non fermarmi mai sai che faccio io se salto su questa casella sbatto sul nemico e lo uccido ragazzi questa è una cosa che ha scoperto l'intelligenza artificiale poi qua ci sarebbe un fungo da prendere un power up però l'intelligenza artificiale ha deciso di non prenderlo perché può tranquillamente farne a meno in effetti quando andiamo avanti notate lo strano modo di saltare si è data una specie di slancio prima così poi così e poi così è veramente incredibile ha scoperto delle strategie anche non dico da 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 come si chiamano quelli che giocano i runner i speed runner ma quasi se voi vedete i speed running di super mario ci sono alcune cose in comune con con questo video qua ha scoperto un glitch ovvero che se avvicini in questo momento mario rischia di morire ok però guardate che ha fatto l'intelligenza artificiale ha sfiorato il funghetto se ha cambiato direzione e funghetto che stava andando a sinistra verso mario pure ha cambiato direzione cioè ragazzi questo è un glitch del motore di collisioni sfioro il funghetto non muoio perché vado indietro nel frattempo però il funghetto cambia direzione quindi poi mi consente di saltarci sopra e di saltarci tra l'altro con rimbalzo sul tubo casi sono rimasto veramente serrefatto da questo risultato qui di nuovo trucco del salto penso quasi un triplo rimbalzo sul tubo e poi c'è la parte di evitare di cadere nel vuoto ce l'abbiamo ovviamente un salto il livello sarebbe più lungo me lo rendo conto però per motivi di progetto non potevano questi ragazzi cioè magari potevo anche chiedere di fare l'intero livello però era la prima volta il primo anno che davo un progetto così complesso non volevo esagerare e gli ho detto fermatevi un po prima della fine del livello quindi la bandierina di fine livello è messa prima e niente ragazzi cioè a me questo è fatto da vostri colleghi della magistrale mi sembra un risultato davvero eccezionale c'è un'intelligenza artificiale che ha imparato a giocare super mario e non a giocarlo in maniera ignorante a giocarlo anche con delle strategie che ricordano quelle degli speed runner che sono delle persone degli esseri umani che si sono messi lì a giocare anche loro poveretti tante tante ore per trovare i glitch che consentono di finire il livello nel minor tempo possibile ok però questo si fa con il deep learning in realtà quello che vedremo oggi pure è ancora molto no senza pure è ancora molto molto attuale viene usato ancora come motore di alcune intelligenze artificiali quindi dobbiamo assolutamente e discuterlo possiamo certamente discuterlo perché perché è un argomento che sta bene in questo corso è basato sugli alberi sulle visite in profondità quindi quindi possiamo discuterlo chi di voi interessato invece a deep learning ci rifletta insomma posso darvi il materiale se vi interessa anche le video registrazioni delle lezioni oppure potete aspettare per iscrivervi alla magistrale bene quindi abbiamo detto più o meno fatto un po di storia anche di attualità per quanto riguarda i giocatori artificiali quindi giocatori moderni sono per lo più basati su tecniche di deep learning in alcuni casi quando non serve usare deep learning perché insomma è una tecnica abbastanza complessa si usa il minimax minimax che è una tecnica che faremo oggi che è la tecnica usata da i campioni diciamo che stanno a secondo posto ecco se il deep learning vince queste competizioni a secondo posto tipicamente ci sono sistemi come stock fish di giocatori di scacchi o equivalenti sistemi di go per il go che sono basati sull'algoritmo che vedremo oggi ora ci serve fare un po di lista della spesa come sempre vi ho abituato a fare prima di andare nell'algoritmo vero e proprio quindi un po di definizioni di teorie dei giochi i giocatori possono essere due o più di due e questo cambia le cose ragazzi perché vedremo che quello che oggi vi presento vale per due giocatori uno dice è però c'è detto che nel caso di bejeweld pure possiamo applicarlo anche nel caso di 2048 ma quali sono giochi single player sì ma i giochi in single player a volte nascondono un secondo giocatore che praticamente potete immaginarlo come un diavoletto che vi complica la vita nel caso del 2048 è il diavoletto che vi fa spuntare le nuove caselle nel caso del bejeweld è di nuovo diavoletto che vi fa cadere dall'alto delle nuove gemme e eccetera quindi effettivamente i giochi a due giocatori sono molto molto frequenti anche i giocatori single player spesso nascostono nascondono il giocatore il secondo giocatore il giocatore nemico poi ci sono i molti giocatori e bei molti giocatori è un po più difficile in quel caso si può adattare quello che vediamo oggi però molto più molto un po più difficile e comunque nei vostri progetti non ci sono molti giocatori condizioni di scelta si possono dividere i giochi in informazione perfetta in perfetta perfetta significa che in ogni stato del gioco io so tutto che significa su tutto so per esempio nei scatti quali pedine ma quali pedine sono sulla stacchiera quali pedine sono state mangiate in che posizione stanno le pedine a chi tocca su tutto proprio non c'è nessuna aleatorietà invece poi ci sono nei giochi a informazione imperfetta cioè in cui ci sono delle informazioni che io giocatore umano o artificiale che gioca al posto mio non conosco per esempio per esempio il famoso poker o texas poker la variante texas del poker in cui effettivamente voi non sapete le carte degli altri giocatori e non sapete all'inizio vengono messe le tre carte mancano le ultime due che sono river sono un espertissimo comunque ci sono delle carte nascoste ok questo ovviamente non solo nel poker ci sono ovviamente tutti i giochi tradizionalmente giochi da casino in cui ovviamente uno non sa tutto ok poi ci sono gli effetti della scelta di un gioco ovvero il gioco è deterministico o stocastico deterministico significa che le azioni dei giocatori determinano completamente l'avanzamento del gioco cioè non c'è un diavoletto esterno appunto che si mette lì a mettere un po di casualità nel gioco ovvero manca un elemento di stocastico un elemento di casualità per esempio nei giochi di carte tipicamente l'elemento di casualità è proprio mischiare le carte oppure nei anche in alcuni giochi da tavolo per esempio i monopoli ma anche perché me il beck e mo che uno dei vostri gruppi ha scelto c'è il lancio del dado e il lancio del dado è un elemento stocastico quindi anche questo bisogna tenerne conto allora l'algoritmo che vediamo in questo corso è pensato per due giocatori è pensato per informazione perfetta quindi voi dite ci posso fare giocatore di texas poker sì si può adattare ovviamente ma il miglior giocatore di texas poker è fatto col deep learning quindi di nuovo se vi interessa vincere a manetta e fare tanti soldini dovete pensare col deep learning però è molto complesso qui perché ragazzi il deep learning apprende anche a capire quando gli altri giocatori possono barare oppure no cioè non è soltanto un calcolo delle probabilità altrimenti non servirebbe il deep learning il texas poker si può anzi tipicamente nelle competizioni appare proprio la probabilità di di vincere con quella mano ma ciò non significa che uno leggendo la probabilità diventa un buon giocatore non basta quello bisogna sapere anche capire come si comportano gli avversari è un gioco sociale ecco il deep learning in qualche modo so che sembra strano ma impara a prevedere le strategie dell'avversario e quindi a conoscere l'avversario quindi durante la partita cerca un po di capire questo avversario se è un avversario che gli piace insomma truccare spesso cioè far finta di avere qualche mano buona cerca un somma di capire come stanno le cose ecco per fare questo tipo di ragionamento non si può certo usare l'algoritmo che vediamo oggi quindi prevalentemente informazione perfetta serve per l'algoritmo che vediamo oggi oggi e la prossima volta per quanto riguarda invece la scelta sicuramente l'algoritmo che vedremo è pensato per giochi deterministici ma adattarlo per giochi stocastici è veramente un piccolo adattamento questo sì che si può fare tranquillamente vedremo che si chiamerà la variante si chiama stocastic minimax oppure expert minimax ci sono tante tante insomma possibili scelte varianti di questo di questo gioco di questo algoritmo poi altre cose che dobbiamo considerare somma 0 ovvero e questo però più o meno è sempre vero il guadagno di un giocatore è la perdita per un altro giocatore cioè se io mi mangio se io mangio una pedina degli scatti nella dama o nel gosse cattura una zona per il giocatore avversario questa mia cattura questo mio mangiare una pedina è uno svantaggio certo molto spesso così se io ci guadagno che l'avversario ci perde e questo è il concetto di somma 0 ok e questo diciamo che è rispettato bene o male da quasi tutti i giochi a due giocatori in cui c'è un giocatore e un avversario poi politica del turno di giocata il gioco e a turni alternati cioè i giocatori muovono uno alla volta negli scatti si nel tris pure nella dama sì più o meno però per esempio una difficoltà che hanno avuto in precedenza qualche anno fa degli studenti che hanno fatto la dama quindi hanno fatto anche l'intelligenza artificiale della dama e che nella dama se avete presente le regole non è vero non è strettamente vero che i giocatori muovono uno alla volta perché innanzitutto c'è il concetto di mangiata obbligatoria a seconda delle delle regole tipicamente la mangiata è obbligatoria e quindi innanzitutto il giocatore non può scegliere quello che gli pare e quando la mangiata obbligatoria la pedina deve mangiare tutte le pedine che incontra lungo il percorso cioè se la pedina mangia un'altra pedina e può mangiarne un'altra ancora ne mangia un'altra e quello corrisponde a fare due mosse quindi non è vero che i giocatori si muovono strettamente uno alla volta ma o meglio sì però un giocatore potrebbe fare più di una mossa nel suo turno questa è una cosa che complica un pochettino l'intelligenza artificiale e ha reso quel progetto sicuramente diede il massimo punteggio mi ricordo proprio per questo motivo poi ci sono giochi in cui le mosse sono addirittura simultane e beh in questo caso diventa difficile per noi con l'algoritmo che vediamo in questa settimana in questo corso affrontare giochi di questo tipo per esempio quali sono i giochi in cui i giocatori muovono simultaneamente mi è successo l'anno scorso i ragazzi che hanno fatto il pokemon durante la battaglia nella battaglia non è esattamente a turni la battaglia ma può capitare che che il giocatore e l'avversario fanno una mossa contemporaneamente o se non altro ragionano insieme contemporaneamente sulla mossa da fare questo non è ben contemplato dall'algoritmo che vediamo questo corso pertanto in questi casi giocatori giochi con mosse sincrone o simultane non no questo non è facile assolutamente da adattare numero di azioni beh in realtà questo è abbastanza invece questo si può tranquillamente contemplare cioè vorremmo chiaramente sarebbe ideale che il gioco fosse finito che significa finito il tris è un gioco finito cioè all'avanzare del numero di mosse prima o poi il gioco finisce e nell'attrice ci sono nuove caselle le occupi tutte il gioco è finito ci sono invece i giochi dove non è detto che le mosse siano finite potrebbe il gioco andare avanti all'infinito ebbe sono tanti giochi così uno dice gli scacchi e la dama beh non è vero perché ci sono delle regole che prevedono ci sono delle regole delle con delle delle competizioni in generale regole accettate dalle comunità che se una mossa si ripete per tre volte non mi ricordo adesso la regola esatta si dichiara la partita non può andare avanti così ecco quindi non è vero che una partita può andare avanti all'infinito nei scacchi e nella dama in quali giochi invece può andare una partita all'infinito a me viene in mente per esempio tennis ping pong perché il tennis ragazzi ci sono state delle partite anche un po di pochi anni fa che sono durata e 7 8 ore ma partite nelle competizioni tipo us open roland garo cioè competizioni importanti in cui anche partite di semifinale e finali sono durate 7 8 ore questo perché perché nel tennis non c'è una regola di fine gioco il gioco finisce quando c'è un certo vantaggio rispetto all'avversario ma se questo vantaggio non si concretizza se questi diversari si equivalgono alla fine il gioco avanti teoricamente all'infinito e altri giochi in cui possono può andare questo all'infinito il 2048 teoricamente può andare avanti fino all'infinito il il badge world pure teoricamente può andare avanti fino all'infinito quindi comunque non è vero che i giochi sono tutti finiti abbiamo già trovato degli esempi per quanto riguarda l'algoritmo di giocatore artificiale di questo corso anche se inizialmente ci servirà ipotizzare che il gioco sia finito poi in realtà queste ipotesi la potremo tranquillamente rilassare scartare quindi non preoccupatevi ok quindi in realtà questa slide riassume un po quello che vi ho detto cioè quali sono i giochi che che noi possiamo risolvere in questo corso con la tecnica che sto per presentarvi sono giochi che tipicamente si chiamano combinatori e sono giochi che soddisfano queste proprietà hanno due giocatori che alternano le mosse hanno somma zero hanno informazione perfetta sono deterministici anche se ripeto questo si può rilassare sono finiti ma anche questo si può rilassare e poi hanno delle regole di gioco molto diciamo regole nette chiare che specificano per ogni stato e per ogni giocatore quali sono le possibili mosse lecite ecco questo è importante però cioè in un certo stato del gioco io giocatore artificiale che devo capire che possa fare so quali post quali mosse posso fare cioè ho una lista di possibili mosse da fare se questa domanda è risposta con sì allora via libera si può implementare giocatore artificiale se la risposta è no cioè il giocatore non sa tutte le mosse che può fare ma dipende anche dalle cose che fa l'avversario in quel momento per esempio un gioco simultaneo beh allora non si può fare però chiaramente se il gioco non è simultaneo se il gioco è con 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 turni tipicamente il giocatore ha un una lista di mosse da poter da poter svolgere va bene questa slide sono mostrati i giochi come il tris forza 4 dama scacchi go sono questi tipici giochi che rispettano queste proprietà ma ripeto ovviamente vi ho assegnato quest'anno giochi che non sono questi quindi il 2048 rispetta queste proprietà a meno di questo termine qui finito però si può tranquillamente rinunciare a questo il beggemon non è nemmeno deterministico ma si può anche fare così il beggeworld invece pure è come il 2048 quindi rientra comunque nei giochi combinatori bene quindi adesso è il momento di andare nel concreto di come risolvere il problema del giocatore artificiale per giochi combinatori allora per giochi combinatori possiamo definire un albero di gioco e l'albero di gioco è diciamo la struttura sulla quale noi andremo poi a implementare l'algoritmo di intelligenza artificiale quindi se capiamo bene la struttura capiamo meglio l'algoritmo gli algoritmi sempre si basano su strutture possiamo dire che questo intero corso a meno la parte teorica è un corso di strutture dati e algoritmi cioè prima vediamo la struttura dati l'albero binario poi vedremo i grafi poi vedremo gli e poi dopo la struttura discutiamo gli algoritmi nel caso dell'albero binario per esempio l'algoritmo di ricerca quindi prima viene la struttura poi viene l'algoritmo allora la struttura è un albero che non si può definire un albero binario, ternario, quaternario nemmeno diario cioè non si può dire che l'albero ha un numero massimo di figli perché in generale in un gioco noi non sappiamo o meglio si si può calcolare però in generale noi non sappiamo tutte le mosse possibili in ogni stato del gioco cioè non sappiamo non c'è un numero fisso dipende dal gioco quindi in un albero di gioco il nodo rappresenta uno stato di gioco immaginate come se fosse una fotografia della partita in quel momento ovviamente il nodo principale, la radice di tutto questo albero è lo stato iniziale del gioco quindi nel caso del tris è la scacchiera vuota 3x3 nel caso degli scacchi è la scacchiera questo l'ho implementato io è una variante degli scacchi però diciamo la variante il gioco classico degli scacchi si presenta in questa maniera quindi questo è lo stato iniziale degli scacchi in cui abbiamo i neri e i bianchi disposti in precise posizioni tra l'altro specchiate no, non sono specchiate, sì, specchiate verticalmente nel caso del 2048 non mi ricordo come inizia non inizia a vuoto, inizia forse con due caselle nel caso del beju inizia in maniera casuale cioè la scacchiera, la griglia è riempita in maniera casuale e poi deve iniziare a giocare l'utente vabbè, ogni gioco ha il suo stato iniziale quindi abbiamo definito cos'è un nodo un nodo è uno stato del gioco allora i suoi figli cosa sono? i suoi figli, o meglio queste diramazioni questi archi corrispondono alle possibili mosse che può fare il giocatore in quello stato quindi per esempio siamo in questo stato di chi è il turno? ecco, quindi a ogni livello è associato un turno perché quando diciamo in quello stato in quello stato non è che possono muovere entrambi i giocatori questo non è un gioco sincrono o simultaneo è un gioco a diacronia quindi solo un giocatore può muovere in un determinato stato quindi per esempio in questo stato diciamo che può muovere il giocatore A e il giocatore A diciamo che è quello che mette le crocette quindi le crocette sono del giocatore A i pallini sono del giocatore B quindi in questo stato il giocatore A quali mosse può fare? beh, lo stato iniziale il giocatore A, cioè la croce può mettere il suo simbolo in qualunque delle nove celle quindi ci saranno nove possibili stati nove possibili mosse alto a sinistra, in alto, in alto a destra, eccetera, eccetera ci siamo? adesso che però siamo in uno di questi stati siamo ad un livello in cui è l'altro giocatore che deve muovere cioè B, quindi pallino e allora questa cosa ragazzi va avanti ricorsivamente e B adesso che decide non che decide è B che adesso valuta tutte le possibili mosse da fare quindi può mettere se stiamo in questo stato qui possiamo andare in questo oppure in questo oppure in questo eccetera, eccetera e di nuovo qui adesso è A che può muovere quindi da questo stato possiamo andare in questo in questo in questo ragazzi capite bene che una cosa del genere esplode molto velocemente cioè se io avessi dovuto disegnarvi l'albero di gioco del Tris anzi qualcuno l'ha fatto Tic Tac Toe All Game Tree Full ve lo chiamano full mi piace qualcuno è stato così pazzo da farlo Full Game Tree quanto è grande l'albero di gioco del Tris? completo? mi sembra un po' troppo ottimistico non è a me questo non mi sembra il full Game Tree non è il full a me sembra no è un esempio questo vedete non ci sono tutte le diramazioni ragazzi probabilmente non c'è perché nessuno ci ha provato vabbè cioè mi aspetterei un'immagine davvero grande di quelle proprio che bisogna andare con la lente di ingrandimento per vedere tutte le possibili diramazioni ma vabbè ma non penso che ci sia una cosa del genere ok perché del resto ragazzi sarebbe un'immagine molto molto grande perché vi ho detto questo? perché già questo vi anticipa una cosa un concetto che dovrebbe ormai esservi familiare in questa parte del corso noi diciamo sempre ok ma qual è la complessità computazionale di tutto quello che stiamo dicendo? beh appare abbastanza evidente che un approccio come questo cioè di valutare per ogni stato tutte le possibili mosse e per ciascuna di quelle mosse tutte le altre possibili mosse e per ciascuna di queste altre possibili mosse tutte le altre possibili mosse eccetera eccetera cioè ragazzi diciamo la verità un albero di gioco si fatto contiene tutti i possibili stati di tutto il gioco tutti cioè non esiste uno stato non contemplato quindi sono tutte le possibili combinazioni di gioco e quanti ce ne sono? beh poi cercheremo di dare un numero però vi anticipo che è un numero gigantesco negli scatti è un numero che supera gli atomi dell'universo ma di grande cioè non di un ordine di grandezza di tanti ordini di grandezza quindi ragazzi è una cosa impossibile proprio da non da immaginare proprio da non si può nemmeno parlare di una cosa del genere ok? però vabbè ci torniamo dopo torniamo alle nostre definizioni quindi in un albero di gioco abbiamo i nodi che sono gli stati i figli che sono le mosse e a loro volta questi sono dei nodi con degli stati ovvero gli stati in cui quella mossa l'ho eseguita e a ogni livello c'è solo un giocatore che può fare la mossa quindi i livelli sono alternati A, B, A, B questo ci fa capire che questo è un gioco strettamente alternato non come a Dama ma proprio strettamente alternato uno poi l'altro poi uno poi l'altro a un certo punto però come tutti gli alberi ci arriva degli stati che non hanno figli a dei nodi che non hanno figli che sono le foglie i nodi che non hanno figli sono quelli in cui il gioco è finito e questi sono chiamati stati terminali o il gioco può essere finito o perché ho riempito tutta la scacchiera oppure perché uno di due giocatori ha vinto e allora chiamiamo questi tre casi vittoria patta sconfitta stati terminali cioè stati in cui non ha più senso chiedersi qual è la prossima mossa perché ormai il gioco è finito di conseguenza un cammino radice foglia cioè una possibile diramazione fino ad arrivare a uno stato terminale è una delle possibili partite del gioco e indovinate un po' quella che chiamiamo intelligenza artificiale sarà un algoritmo che tenterà di simulare tutte le possibili partite per capire qual è la mossa più promettente che mi porta al maggior numero di vittorie a partire appunto da questo stato facendo quella mossa quindi ragazzi per quanto possa sembrare diciamo anche un po' scoraggiante perché magari uno pensava all'intelligenza artificiale wow Terminator che prende il dominio ragazzi questo si pensava negli anni 80 e 90 cioè questo algoritmo era quello che comandava i giocatori di scacchi e altri giocatori artificiali che poi dava ispirazione per Terminator e altri film di fantascienza adesso noi siamo passati dal vedere Terminator e spaventarci siamo passati dall'altra parte della barricata sì ok ma cosa c'era dietro questa intelligenza che spaventava tanto la popolazione i giornalisti se ne parlava in tv eccetera ragazzi c'era un computer che simulava tutte le possibili partite e come vedremo sceglieva quella che la mossa che massimizzava il numero di possibili vittorie quindi anche una cosa di questo tipo che magari uno dice wow è spaventosa questa cosa dove sta io adesso gioco gli scacchi e questo mi batte quindi magari cerco di giocare ecco non proprio come un fesso anche se in realtà non penso di stare facendo una buona partita no per niente proprio però questo è per dirvi che anche se io ci metto un minimo di impegno ahia mi mangia la regina alla regina mi ha mangiato non sono stato per niente bravo adesso adesso io però se mangio se mangio questo ahia scacco matto quindi uno si spaventa perché dice ammazza ragazzi questo semplice gioco batte anche insomma potete installarlo sta nella cartella sta nella cartella di intelligenza artificiale c'è un installer per ogni piattaforma quindi windows linux e mac os qualunque sia il vostro computer potete installare questo gioco che ho implementato abbastanza rapidamente come dimostrazione eh di quanto vi sto dicendo e anche se siete dei bravi giocatori artificiali anche se siete dei bravi giocatori umani non vincerete teoricamente non dovreste non dovreste vincere però adesso finalmente vi sto spiegando cosa c'è dietro le quinte quindi voi potrete tranquillizzare potrete adesso tranquillizzare i vostri amici i vostri familiari perché potete dire professore ci ho spiegato in realtà cosa c'è dietro l'intelligenza artificiale e non è niente di che questo è l'obiettivo di oggi farvi capire che non è niente di che che anche voi potete comprendere queste cose e capire che non c'è questa grande intelligenza ma è forza bruta prova tante cose e vedi quelle che vanno meglio sintetizzato proprio in estremis ok andiamo avanti quindi adesso ci serve appunto un approccio per capire qual è la mossa più promettente quindi io sono in questo stato iniziale devo muovere quindi supponiamo che il giocatore artificiale sia il croce la croce e può fare ovviamente nove mosse sì va bene ma non può farne nove ne deve fare farà la mossa migliore cioè quella che è più promettente come facciamo a a livello proprio implementativo a dire la mossa più promettente allora l'idea di chi ha inventato questo algoritmo è quella di ovviamente ragionare su dei numeri cioè noi non possiamo ragionare in maniera qualitativa dobbiamo per forza dare un valore alle cose e allora l'idea è di dare un valore alle ai agli stati terminali quindi hai vinto allora tu giocatore artificiale hai vinto e ti do un numero positivo positivo significa che per te è stata una buona fine del gioco hai vinto patta patta do zero zero significa ad esempio che appunto non c'è un vantaggio di nessuno dei due giocatori c'è un equilibrio meno uno per esempio significa che tu giocatore artificiale hai perso e infatti ha vinto il giocatore avversario quindi l'idea è di definire una funzione di utilità ragazzi questa funzione non è solo una funzione matematica è proprio una funzione nel codice cioè nel codice è una funzione che dato uno stato terminale restituisce un numero questo numero deve essere positivo quando vince il giocatore artificiale negativo quando perde il giocatore artificiale e zero quando è patta ora non è necessario che sia proprio uno zero e meno uno anzi diciamola tutta le vittorie non sono tutte uguali magari nel trist si però pensiamo negli scacchi nella dama vincere con 10 pedine di vantaggio o vincere all'ultimo sangue con una pedina di vantaggio non sono la stessa vittoria una è più schiacciante dell'altra anche nel go e anche in altri giochi quindi l'ideale sarebbe quindi non lasciatevi ingannare dal fatto che qua ci abbiamo messo uno e meno uno nella realtà quando il gioco diventa complesso magari non è un trist ma è uno scacchi noi diamo un valore più positivo se la vittoria è più schiacciante più negativo se la vittoria è se la sconfitta è più schiacciante eccetera eccetera quindi l'importante sia il positivo negativo e zero quanto deve essere positivo e quanto deve essere negativo dovrebbe essere proporzionale a quanto è forte quella vittoria o quanto è forte quella sconfitta perché perché ragazzi l'algoritmo minimax è un algoritmo ottimo che significa ottimo significa che nel campo che a livello di giocatore artificiale consentitemi il francesismo è un bastardo cioè lui non si accontenterà di vincere ma vorrà vincere col più grande margine cioè vorrà schiacciarvi se voi provate a giocare a dama contro un giocatore artificiale alla massima difficoltà ragazzi vi fa fuori proprio in pochissimo tempo cioè vi ridicolizza davvero uno si sente quasi in difficoltà dice ma questo proprio non solo mi batte ma mi mi sta proprio ridicolizzando sono sconfitte schiaccianti quelle che sono subite ormai dagli umani nei confronti dell'intelligenza artificiale perché proprio perché questa funzione non è sempre uguale per tutte le vittorie per tutte le sconfitte ma è proporzionale ok quindi cercherà il minimax di fare la scelta ottima cioè quella che condurrà alla migliore delle vittorie non a una vittoria qualunque ok importante questo concetto perché ci servirà dopo ok quindi l'obiettivo è appunto di raggiungere per il giocatore artificiale di raggiungere la massima vittoria la vittoria più schiacciante quindi l'obiettivo è massimizzare il valore di questa funzione massimizzare l'utilità questo è l'obiettivo del giocatore artificiale quindi stiamo supponendo in questo caso di giocare con A se l'avversario inizia lui per primo cosa succede se è l'avversario a essere lui il giocatore iniziale quello che si trova quello che si trova qui a questo livello vabbè ragazzi le cose si possono cambiare in qualunque momento anzi vi posso dire come si fa a fare una partita tra intelligenze artificiali tra l'altro è carina la cosa fatemela mostrare vediamo chi vince facciamo una partita tra intelligenze artificiali quindi mod AI vs AI via forse devo fargli la prima mossa si devo farla io wow si stanno battagliando chi vincerà ha vinto il nero questo significa che la mia mossa iniziale probabilmente non era una bella mossa che ne so adesso ha iniziato l'intelligenza artificiale ma sempre il nero vince e vabbè ragazzi è andata così però la domanda era come faccio a implementare una battaglia tra intelligenze artificiali beh qual è il problema se il giocatore A deve massimizzare l'utilità il giocatore B deve minimizzare l'utilità perché vuole vincere lui quindi vuole far perdere A quindi alla fine noi possiamo metterci in qualunque momento sia dal punto di vista di A e dovremo massimizzare l'utilità sia dal punto di vista di B e dovremo minimizzare l'utilità cioè sto dicendo che il fatto che la funzione di utilità sia positiva o negativa attiene semplicemente a dire che sta vincendo uno o l'altro giocatore quindi se vogliamo far vincere B dobbiamo minimizzare l'utilità se vogliamo far vincere A dobbiamo massimizzare l'utilità e se non vogliamo far vincere nessuno questa non è una cosa che si fa tipicamente però volendo si potrebbe anche fare dovremo minimizzare il valore assoluto dell'utilità quindi tenendolo a zero in quel caso stiamo cercando di forzare la partita ad una patta ma si può fare anche quello volendo quindi abbiamo il controllo totale della partita possiamo far vincere un giocatore possiamo far vincere anche il giocatore umano se ci fa pena o vogliamo farlo contento possiamo anche condurre la partita verso una patta così il giocatore umano pensa wow ha pareggiato contro un'intelligenza artificiale che bello davvero molto bravo in realtà è tutto assolutamente controllato dall'algoritmo ok adesso facciamo un altro passo avanti quindi abbiamo detto che possiamo associare a questi nodi terminali cioè i stati finali in cui c'è la vittoria di un giocatore oppure di un altro la sconfitta un valore il problema però è che questi valori stanno qui ok sono lontani rispetto al punto in cui il giocatore deve compiere la sua mossa quindi mi servirebbe vorrei una strategia per far risalire quelli che sono i stati terminali del gioco con i loro valori di utilità vorrei che questi valori risalissero fino allo stato in cui mi trovo cioè io voglio io che sono in questo stato mi piacerebbe avere una panoramica di tutti i valori che sono stati assegnati agli stati finali del gioco cioè io voglio qui sapere ok ma quale mossa devo fare tra quelle disponibili l'idea è quella di far risalire queste etichette questi numeri questi valori di utilità di livello in livello quindi livello successivo 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 fino al livello in cui mi trovo il problema è come farli risalire allora per farli risalire bisogna fare un'ipotesi ovvero l'ipotesi è che ogni giocatore attenzione ogni giocatore non solo il giocatore artificiale ma anche l'avversario che potrebbe essere umano l'ipotesi di lavoro è che ciascun giocatore scelga la mossa a lui lei più congeniale cioè quella che conduce a se siamo l'avversario valori più piccoli di utilità se siamo il giocatore artificiale valori più grandi di utilità qualcuno qui potrebbe già sollevare un'ambizione se tutto quello che sta per arrivare si basa su queste ipotesi di lavoro allora io essere umano furbo gioco male e se gioco male questa ipotesi non è verificata e se questa ipotesi non è verificata l'intelligenza artificiale giocherà male no perché se io giocatore umano gioco male l'intelligenza artificiale comunque tenta di massimizzare la sua utilità io giocatore umano sto giocando male e quindi indovinate un po' che succederà mai se io gioco male e l'intelligenza artificiale comunque tenta di giocare bene che vincerà ovviamente l'intelligenza artificiale quindi in realtà ipotizzare che l'essere umano stia giocando bene non è un caso favorevole ma anzi è il peggior caso quindi questo è un'ipotesi di caso peggiore quindi mettiamoci nel caso peggiore di stare giocando contro un campione se riusciamo a vincere anche contro un campione ma secondo te non riusciamo a vincere anche contro il pischello che sta alle prime armi come me che ho giocato poco fa a scacchi ovviamente sì ed è questo il fulcro dell'algoritmo ipotizzare che ogni giocatore giochi al massimo delle sue possibilità facendo la mossa migliore ok beh se sono alla fine del gioco o meglio poco prima consentitemi di prendere questa slide se sono nella nodo precedente ad uno stato finale per esempio guardate sono qui c'è soltanto una casetta libera sono il giocatore B quello blu rosso è A beh che mossa deve fare è facile che mossa deve fare devi fare la mossa in questo caso l'unica mossa possibile però consentitemi di fare un altro esempio un esempio in cui non c'è una casella libera ma ce ne sta più di una per esempio questo caso supponete che io sto in questa casella sto in questo stato di gioco sono croce devo decidere quale mossa fare ma ragazzi tra le mosse possibili ce n'è una che mi porta alla vittoria e quindi alla fine io se devo dare un'etichetta cioè se devo dire ma questo stato di gioco che valore ha per me che sono il giocatore croce ma dato che io qui posso mettere la croce e vincere io per me questo stato di gioco è uno stato per me positivo cioè ci metto uno perché è vero che io potrei metterla effettivamente qui la croce e poi il gioco finirebbe in patta ma ricordatevi ipotesi di miglior mossa io sono il giocatore artificiale come anche quello umano io faccio la mossa migliore per me quindi per me in questo stato la mossa migliore è lampante è quella che mi porta alla vittoria immediata questa vittoria immediata verrà fatta risalire etichettando questo stato di gioco con uno quindi il concetto è di far risalire queste vittorie queste sconfitte come farle risalire andando se sono il giocatore A a scegliere tra i miei figli quello che ha il valore più elevato che significa il valore più elevato il valore di utilità il valore che mi dà la vittoria quindi io devo dare un valore allo stato in cui mi trovo perché devo dare questo valore perché lo stato in realtà viene da una certa combinazione di mosse quindi per far capire a chi sta al vertice quale mossa fare io devo dare un valore allo stato in cui mi trovo devo dire se questo stato è per me un buono stato un promettente stato che mi porterà ad una vittoria oppure no per far questo se io sono A cioè quello che deve avere valori positivi allora io dirò che il valore di questo stato in cui mi trovo sarà il più grande tra i valori dei miei figli perché il più grande perché deve massimizzare dire il più grande significa io ipotizzo di fare la scelta più promettente rispetto alle scelte alle mosse dei miei figli cioè le mosse sono i miei figli rispetto alle possibili mosse io sceglierò la cosa migliore quindi io scelgo il massimo delle etichette delle utilità associate ai miei figli beh però se sono il B io voglio valori negativi quindi sceglierò il minimo delle utilità dei miei figli voi dite ma i figli come faccio a dargli un'utilità ai figli i figli non ce l'hanno l'utilità questo è un algoritmo ricorsivo appunto è un algoritmo ricorsivo il padre chiede l'utilità ai figli e massimizza A chiede l'utilità ai figli e massimizza i figli non ce l'hanno l'utilità anzi sanno come calcolarla in questo caso B deve minimizzare l'utilità dei figli ma A deve massimizzare l'utilità dei figli B deve minimizzare l'utilità dei figli dove si va a finire? si va a finire prima o poi negli stati terminali negli stati terminali l'utilità ce l'ho e a quel punto questa utilità ecco che sta risalendo quindi ragazzi e mi ricordate un po' l'algoritmo di visita in profondità usato per calcolare l'altezza? è molto simile io devo dare un valore all'altezza di questo nodo però non lo so la chiede ai miei figli e poi calcolerò il massimo dell'altezza dei miei figli vi ricordate l'algoritmo dell'altezza? è esattamente così però anziché essere sempre il massimo qui è a turni quindi se sono A la mia utilità sarà il massimo dell'utilità dei miei figli ma se io sono a livello B la mia utilità sarà il minimo dell'utilità dei miei figli eccetera eccetera facciamo un esempio e poi vediamo l'algoritmo allora nell'esempio ci sono già tutte le utilità però noi dobbiamo immaginare che all'inizio questi numeri non ci sono ok? quindi supponiamo che non ci sia nessuno di questi numeri ovviamente però i numeri ci sono laddove i stati sono terminali quindi qui c'è un numero qui c'è un numero anzi fatemi cancellare non so se riesco a cancellarli tutti in un colpo solo forse sto chiedendo troppo però ci provo cancello tutti i stati terminali non terminali mi sfugge qualcosa ditemelo eh tra l'altro questo è l'albero di gioco completo a partire da uno stato in cui già ci sono tre pallini e due croci immaginate com'è invece l'albero di gioco completo questo però è questo è terminale questo è terminale queste sono tutte foglie ovviamente ovviamente così penso di sì penso di aver fatto ok bene ok quindi consideriamo adesso questo albero di gioco in questo albero di gioco io devo considerare tutte le possibili mosse poi tutte le possibili mosse eccetera questo abbiamo da discorso questo è l'albero di gioco cos'è che so già fare so inserire un valore di utilità nei nodi terminali e beh ovvio che lo so fare ragazzi se qui ha vinto il pallino ci metto meno uno se ha vinto la croce ci metto uno se non ha vinto nessuno e non ci sono mosse da fare ci devo mettere zero quindi questa cosa la so fare banalmente ok ora il problema è far risalire questi numeri verso l'alto come li faccio risalire bene in ogni nodo di ogni livello devo massimizzare se sono A se sono il rosso se sono la croce e minimizzare se sono il B se sono il pallino se sono l'azzurro quindi sono in questo momento B tra l'altro vedete che i livelli sono etichettati con min max min max proprio per ricordarvi che se sono B devo minimizzare se sono A devo massimizzare e minimizzare e massimizzare questo algoritmo non sorprende che si chiama min max perché è un'alternanza di minimizza massimizza minimizza massimizza a livelli alternati quindi sono B beh sono in questo stato e non c'è niente da fare ragazzi non ho figli quindi che minimizzo quello è 1 e quindi mi accontento questo è 1 sono qui e beh qui soltanto una mossa posso fare quindi il minimo di 1 di una mossa è purtroppo sempre quello quindi qua ci devo mettere meno 1 quindi qua ci metto meno 1 ok poi metto meno 1 anche qui perché ovviamente ho soltanto un figlio qui metto 0 perché di nuovo ho soltanto un figlio quindi il problema si pone quando uno ha più di un figlio cioè deve fare una scelta ok in questi casi di scelta non c'è nulla da fare qui mette meno 1 e poi meno 1 qui meno 1 anche qui e anche qui e 0 c'è la patta qui ho copiato l'elemento sbagliato ok quindi già abbiamo fatto risalire questi valori a livello precedente non abbiamo fatto granché perché in questi casi c'era soltanto una possibile mossa da fare quando manca soltanto una casella in quel caso non c'è nulla da minimizzare o massimizzare il valore quello è quello deve risalire però adesso se siamo a livello successivo e adesso siamo nel max quindi ricordiamoci che dovremo massimizzare adesso per esempio in questo stato abbiamo due possibili tiramazioni ma indovinate un po' che mai farà max dovrà scegliere la mossa più promettente cioè quella di valore massimo quindi sceglierà 1 e scarterà meno 1 quindi qui noi ci mettiamo 1 qui invece abbiamo di nuovo 1 e meno 1 quindi non ci sorprende che anche qui metteremo 1 qui abbiamo 1 e 0 quindi anche lì metteremo 1 qui abbiamo 1 e 0 metteremo anche lì 1 1 e 1 ovviamente 1 1 meno 1 di nuovo 1 meno 1 1 ancora 1 0 meno 1 è 0 il massimo meno 1 0 e di nuovo 0 e di nuovo 0 il massimo piano piano stiamo risalendo quindi adesso siamo a questo livello e abbiamo questi valori di utilità passiamo sopra di livello siamo al minimo dobbiamo minimizzare adesso abbiamo diverse scelte noi ovviamente non siamo fessi giochiamo bene quindi sceglieremo quella più ovviamente conveniente addirittura qua c'è una vittoria istantanea questo già ci fa capire una cosa ragazzi che se volevamo differenziare le vittorie premature del gioco rispetto a quelle terminali in cui magari proprio era l'ultima casella da riempire potevamo potremmo dare dei valori diversi per una vittoria che arriva all'ultimo e una vittoria che arriva prima questa è una vittoria più schiacciante quindi questa mi senti di dire che dovrebbe volere che ne so meno 2 meno 3 più schiacciante rispetto a questa però vabbè questa è una sfumatura se vogliamo proprio ridicolizzare il nostro povero giocatore ok giocatore umano ovviamente adesso siamo in min e scegliamo ovviamente meno 1 quindi facciamo risalire meno 1 meno 1 e qui purtroppo il povero min si ritrova 1 1 e 1 praticamente stiamo dicendo che qualunque mozza farà è fregato quindi dobbiamo far risalire il fatto che lui è fregato purtroppo è 1 la migliore mossa che può scegliere qua invece può scegliere meno 1 se me lo fa scoppiare e incollare e qua pure può scegliere meno 1 l'abbiamo quasi fatta siamo arrivati finalmente alla fine ok adesso finalmente siamo nello stato attuale e indovinate un po' quale mossa farà il nostro max farà meno 1 cioè darà un vantaggio al giocatore avversario no 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 farà questa mossa perché questa è la mossa che massimizza finalmente la sua utilità che è risalita dagli stati finali fino allo stato attuale e in effetti ragazzi pensiamoci noi che possiamo vedere tutto dall'alto possiamo effettivamente constatare che è proprio quella la mossa da fare perché guardate in questa diramazione del gioco ci sono una vittoria per la x una patta quindi una vittoria una patta poi una vittoria una patta e due vittorie quindi abbiamo quattro vittorie due patte possibilità di sconfitta zero possibilità di vittoria 4 a 2 quindi 60% mentre se scegliesse questa strada ci sarebbe una sconfitta una vittoria una sconfitta con i due sconfitti una vittoria una vittoria due sconfitte due vittorie una sconfitta tre sconfitte due vittorie quindi in questa strada la probabilità di sconfitta è tre contro due e quindi non conviene questa strada quest'altra invece abbiamo una vittoria una sconfitta una sconfitta una sconfitta una vittoria quindi due vittorie tre sconfitte Di nuovo è sfavorevole e quest'altra strada è ancora peggio perché patta, sconfitta, 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 patta, due patte, tre sconfitte, ammazza, questa proprio, ecco, questo ci fa anche capire, il fatto che questo valga meno uno e anche questo meno uno è perché noi non abbiamo fatto differenza tra le vittorie che arrivano prima, le vittorie che arrivano dopo, cioè le vittorie e le sconfitte non sono tutte uguali, quindi in un gioco fatto bene che vuole davvero ridicolizzare l'essere umano dovremmo un po' fare un po' di differenziazione, noi in questo momento non l'abbiamo fatto, pertanto per lui questa sconfitta è come se fosse uguale a questa sconfitta ma in realtà abbiamo visto che qua è tre contro due, qua invece praticamente non vincerà mai, anzi può perdere in tre casi e pareggiare in due. Ma l'importante è che Max sceglierà questa strada e questa è una strada che sta sicura verso una non sconfitta e probabilmente verso una vittoria. Ci siamo? Adesso questo che abbiamo descritto a voce lo dobbiamo far diventare codice, sempre questo dobbiamo fare noi, siamo informatici, non ci contentiamo della descrizione verbale, dobbiamo tradurlo in linguaggio comprensibile alla macchina. Bene, indovinate un po' ragazzi, una visita in profondità, che forma avrà mai? Una forma ricorsiva, però adesso noi dobbiamo, siccome dobbiamo fare cose diverse a seconda dei livelli, cioè c'è una alternanza di min, max, min, max, la nostra ricorsione sarà della forma, vi ricordate la prima volta che vi ho parlato della ricorsione? Vi ho detto, esistono le ricorsioni mutue in cui A chiama B, B chiama A, A chiama B e si rimpallano la palla. Questo è proprio quel tipo di ricorsione in cui bisogna rimpallarsi un po' la situazione. Perché? Perché l'abbiamo visto, io una volta devo minimizzare, ma poi devo massimizzare, ma poi minimizzare, ma poi massimizzare. Quindi, qual è il nostro algoritmo minimax? Allora, la mossa migliore da fare, dal punto di vista di A, di max, quindi supponiamo di essere noi il giocatore artificiale max, e l'argmax dei figli, cioè è il figlio, cioè la mossa, che massimizza l'utilità, ok? E questo l'abbiamo detto. Il problema qual è? È che l'utilità dei figli, io non la conosco, è appunto, serve una visita in profondità per arrivare fino alle foglie. E allora, guardate, l'utilità dei figli, io la chiedo tramite una funzione che va a calcolare l'utilità dei figli. Ma siccome i figli sono di tipo min, io invocherò la funzione che calcola l'utilità A dal punto di vista di min. Quindi, la mossa migliore per max è la mossa che massimizza l'utilità tra i suoi figli, ma i suoi figli hanno un'utilità pari a minval. Cosa fa minval? Minval dice, lo stadio in cui mi trovo, per caso, è una foglia, cioè uno stato terminale. Beh, allora, se è una foglia, io restituisco l'utilità del gioco finale, cioè la sconfitta, la sconfitta è meno uno, in realtà per me è una cosa positiva, però comunque è meno uno, la vittoria più uno, la patta è zero. Oppure abbiamo deciso che ci sono vittorie diverse da altre vittorie, e vabbè, è una decisione nostra. Se invece non è una foglia, io devo minimizzare l'utilità, no, sì, devo minimizzare l'utilità dei miei figli. Io sono minval, quindi la mia fdu temporanea la inizializzo con più infinito, e vado per ciascuno dei figli a calcolare il minimo. Ragazzi, questo è un semplice calcolo di minimo, quindi la utilità che io dirò associata a me, a questo stato, a questo stato del gioco, è la più piccola utilità, perché voglio minimizzare, voglio fare la mossa per me migliore, io sono min, dei miei figli. Eh, però i miei figli sono dei giocatori avversari, quindi devo chiedere a Max Val qual è l'utilità dei figli, perché i figli sono l'altro giocatore. Allora Max Val dice, di nuovo, se sono una foglia, io so qual è l'utilità, altrimenti se non lo so, io devo massimizzare. Quindi inizializzo con meno infinito, e per ciascuno dei figli calcolo il massimo delle utilità. Ma il massimo delle utilità dei figli, i figli sono dell'altro giocatore, quindi devo chiedere a minval. E allora ragazzi, è proprio, come vi dicevo, un rimpallarsi. Minval chiede qui a Max Val, che chiede a minval, che chiede a Max Val, questa cosa dov'è che finisce? Finisce quando si arriva a delle foglie. Una volta arrivate alle foglie, questi valori risalgono. Quindi ulteriore esempio, queste sono le foglie, questi sono, questo è l'abbero, un abbero da gioco in cui dobbiamo inserire delle utilità, e il minimo sceglierà il minimo tra 10 e più infinito, quindi 10, 5, meno 10, 5, tra 7 e 5, meno infinito, e meno 7. Max sceglierà il massimo, quindi 10, meno 10, 5, meno 7, il minimo sceglierà il minimo, quindi meno 10, meno 7. E Max sceglierà il massimo, che purtroppo è meno 7, e questo già ci fa capire che Max sta messo molto male, cioè questo ormai è uno stato di gioco che si chiama compromesso, cioè ormai come va va probabilmente Max perderà, però almeno vuole perdere con dignità, e allora decide di la strada che porta verso una sconfitta meno schiacciante. Ok? Bene. Ora, non so se l'avete capito a fondo, io la prima volta che vedi il minimax non so quante volte l'ho dovuto rileggere, quante volte ho dovuto riflettere per capirlo, e tra l'altro questa è la versione semplice del minimax, e poi ci sarà l'alpha pruning, l'alfabetta pruning, che è decisamente più complesso, quindi è normale se non avete capito tutto quello che ho detto. Io ho fatto il mio meglio, però l'ideale è andare come sempre nel codice e vederlo funzionare. C'è una bellissima frase del libro Introduction to Algorithm, che è un po' la Bibbia degli algoritmi, che dice in inglese, ve lo traduco al volo, che il miglior modo per capire un algoritmo è imparare a fidarsi vedendolo funzionare. Quindi la prima cosa da fare è vedere che funziona, fidarsi e poi la comprensione arriva più facilmente, una volta che uno vede che funziona, lo vede proprio all'opera. Prima di vederlo all'opera, cerchiamo però di caratterizzarne la complessità computazionale, perché prima ancora di dire implementiamolo, cerchiamo di capire ma possiamo implementarlo? Cioè possiamo implementarlo e non avere la risposta in tempi utili e non aspettare fino a dopodomani? Beh, intanto questo algoritmo è una visita in profondità. Perché è una visita in profondità? Perché subito si va in profondità. Da cosa ce ne accorgiamo? Guardate, lui deve scegliere il massimo tra i figli, quindi quando valuterà il primo dei figli, invocherà questa funzione. Questa funzione, quando valuterà il primo dei figli, invocherà questa funzione. Quindi praticamente il primo dei figli, il primo dei figli, il primo dei figli, il primo dei figli o valuto, risalgo, vado a figlio successivo, risalgo, vado qui, poi vado qui, poi vado qui. Che tipo di visita è questa, in cui valuto sempre prima il figlio sinistro, poi risalgo, poi l'altro figlio, poi risalgo, poi l'altro figlio ancora? Certo, questo non è un abbero binario, quindi non è corretto dire in ordine, in post ordine, in pre ordine. Però è una visita in cui devo prima visitare tutti i figli e poi nel nodo corrente faccio il minimo e vado avanti. Quindi prima i figli e poi il nodo. Come si chiama questa visita? In ordine, pre ordine o post ordine? Prima i figli. Vi ricordate? Toc, toc. Post. Giusto? Post ordine. Prima i figli, poi il nodo corrente. Cioè prima devo valutare l'utilità di tutti i figli e poi alla fine avrò calcolato, in questo caso il minimo, e posso restituire il controllo al chiamante. Ora, tutto questo per dire che è una visita in profondità. Ma se è una visita in profondità, la complessità computazionale è quella pari a tutti i nodi dell'albero. E la complessità spaziale, cioè la memoria utilizzata, è quella utilizzata da tutti i nodi dell'albero. Quindi alla fine quello che comanda qui è il numero di nodi dell'albero. Se noi riusciamo a capire quanti nodi ci sono in un albero da gioco, automaticamente abbiamo caratterizzato sia la complessità temporale sia quella spaziale. Bene, allora cerchiamo di capire quanti nodi ci sono in questo benedetto albero. Intanto diciamo che per ciascun nodo definiamo come delta out, delta out è il termine che abbiamo usato quando abbiamo parlato di... non so se abbiamo parlato, comunque lo useremo nei grafi. Indichiamo come grado il numero di archi che escono da un nodo. E questo numero lo indichiamo con B. Ora, che significa B, ragazzi? Il numero di archi che esce da un nodo corrisponde al numero di mosse. Ora, qual è il numero massimo di mosse? Ogni gioco ha il suo. Nel Tris, qual è il numero massimo di mosse possibili? All'inizio è 9, certo poi diventa 8, poi 7, poi 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Però all'inizio è 9. Quindi, per esempio, B è uguale a 9 all'inizio nel Tris. Qual è invece l'altezza di questo albero? Beh, nel caso peggiore, in cui partiamo dallo stato iniziale, è la lunghezza della massima partita della massima. È la lunghezza della più lunga partita possibile. Nel caso del Tris, la partita più lunga possibile è lunga 9 mosse. Quindi B è uguale a 9 e H è uguale a 9. 9 mosse possibili alternate croce pallino. Beh, allora possiamo, se non altro, maggiorare N. Come lo possiamo maggiorare? Beh, lo possiamo maggiorare proprio immaginando di esplorare questo albero. Quindi all'inizio abbiamo uno stato di gioco. Poi ne abbiamo B, perché ci sono B possibili mosse. Poi da ciascuna B, lo so che nel caso del Tris non è così, però, ragazzi, stiamo maggiorando. Da ciascuna B si diramano altre B. Quindi in totale sono B per B. Quindi più B quadro. E poi, di nuovo, da ciascuna B, altre B. Quindi più B cubo, più B alla quarta. Fino a quando? Ogni volta che aggiungiamo un termine, stiamo esplorando in altezza il nostro albero. Quindi questa cosa si ferma quando raggiungiamo H. Quindi possiamo maggiorare N con 1 più B, più B quadro, più B all'H. Beh, allora se dobbiamo trasformare questo in complessità, a noi ci interessa sempre il termine di ordine più grande, quindi ce ne freghiamo di 1, di B, di B quadro, eccetera, e ci interessa solamente B all'H. Quindi la complessità è B all'H. Bene. Indovinate un po'. Nel caso degli scacchi, B è mediamente, cioè considerando le mosse iniziali, nelle prime fasi del gioco, nelle fasi avanzate, mediamente B è 35. E la lunghezza di una partita media è 100. Ragazzi, B, cioè 35 alla 100, è approssimabile con, è un numero dell'ordine di 10 alla 154, che supera di grandi, di tantissimi ordini di grandezza, vediamo quanti, di quanti ordini di grandezza, number of atoms in the universe. è una stima fatta dai fisici, però ci possiamo credere, tra 10 alla 78 e 10 alla 82. Atomi, atomi, ragazzi, cioè, sotto all'atomo, sì, vabbè, ci sono protoni, neutroni, poi ci sono i quarti, però parliamo di atomi, 10 alla 82, diciamo. Bene. Quanti nodi ci stanno a un abbero da gioco di scacchi? 10 alla 154. E questi sono gli scacchi. Immaginate invece il Go, che è un gioco molto ancora più complesso dei scacchi. ragazzi, sono numeri ingestibili. Ok? Questa frase, tra l'altro, l'ha scritta proprio Claude Shannon, che voi siete ingegneri dell'informazione, Shannon è l'inventore della teoria dell'informazione, quindi è un po' l'antesignano di tutto quello che stiamo dicendo. E lui ha detto che il numero di possibili posizioni, stati di gioco negli scacchi, sorpassa il numero di atomi della Via Lattea, ma in realtà di tutto l'universo. Ok? Quindi, tutto questo per dire cosa? Attenzione! Perché questo non solo è la complessità computazionale, ma anche quella spaziale. Quindi, adesso ci possiamo fare un calcolo. Nel Tris, quant'è 9 alla 9? Perché sono 9 possibili mosse per 9, per 9 l'altezza di una partita che arriva fino alla fine. Quant'è 9 alla 9? 9 alla 9 è un numero 387 milioni e 426, 426 milioni e 426 milioni. Az! Ok, che significa questo numero? Significa che se noi facciamo un albero da gioco e in ogni nodo ci mettiamo lo stato del gioco, ora, lo stato del gioco nel Tris, come lo possiamo modellare? È una matrice. 3x3. Una matrice di cosa? Una matrice di Buleani no, perché ogni casella può avere o niente, o croce, o pallino. E ragazzi, quindi una matrice di Char? Una matrice di Char quanto è grande? Un Char sono 9 byte. Eh, sono 9 byte, sì. Sono 4 byte. 3x3, 9, 9 byte. 9x4, 36. Quindi, uno stato di gioco, un nodo del nostro albero da gioco sono 36 byte. Ci troviamo? Quindi devo moltiplicare questo numero per 36. E questa è la quantità di byte di memoria necessaria per esplorare tutto l'albero di gioco del Tris, che è il gioco più facile a livello di complessità esistente. Quindi sono questi 13, 14 gigabyte. Vi trovate? Sono 14 miliardi di byte. Quindi sono 14 gigabyte. Sfortunatamente sulla mia macchina io ho 16 gigabyte, che tra l'altro non è poco. Che fa? Secondo voi, per giocare a Tris, implementiamo un gioco che usa 14 gigabyte di RAM? Ma manco per cavolo, ovviamente non esiste una cosa del genere. Quindi questo significa che l'algoritmo minimax è teoricamente ottimale, ma praticamente io non lo posso implementare così com'è. Ho bisogno di semplificare alcune cose. Ora, queste semplificazioni, ce ne sono diverse, noi trattiamo quelle più note, quelle più frequenti, sono, trattiamo tre tipi di semplificazioni. Il taglio, la tecnica del taglio, la tecnica degli stati quescenti e la tecnica alfa-beta. Tutte queste tre cose si possono implementare insieme e se implementate tutte e tre, insieme vi danno un algoritmo che vi risponde in tempi non biblici e non usa tutta la RAM che ho appena detto. Quindi, è chiaro ragazzi, il minimax è garantito, matematicamente dimostrabile, che vi dà l'ottimo, quindi la mossa migliore tra tutte le quante possibili. Beh, grazie al pifero, esplora tutti gli stati del gioco, arriva agli stati terminali e va praticamente a calcolare quali sono le mosse che danno le migliori probabilità di vittoria più schiacciante. E allora, grazie al cavolo che ce la fa. Ce la fa se io ho tutto, se ho un computer superpotente con tanta RAM, ma se io non ce l'ho, oppure se sto giocando a scacchi e non ce l'avrò mai un computer così potente, che posso fare? Beh, posso intanto introdurre una tecnica di taglio che è semplice semplice. Ed è questa la prima cosa che facciamo oggi e che magari poi se abbiamo qualche minuto iniziamo a implementare probabilmente la prossima settimana dovremmo riprendere da dove abbiamo interrotto. Allora, l'idea qual è, ragazzi? Attenzione, perché questo è non solo la tecnica praticamente usata da tutti, cioè non c'è nessun nessun gioco che è scaricato da internet che usa il minimax e non usa questa tecnica. Questa tecnica la usano tutti, perché, ve l'ho detto, è impossibile usare il minimax originale. L'idea è di non espandere tutto l'albero di gioco. Perché no? Perché H è grande, H negli scacchi è 100, non posso espandere 35 alla 100, è un numero troppo grande. Allora, lo espando fino ad una certa profondità a partire dal nodo corrente. Quindi, per esempio, in questo caso, D uguale 2, cioè questo è il mio stato, ho fatto questa espansione, poi ne ho fatta un'altra e poi basta. Mi sono fermato. Beh, allora c'è un problema qui. Se io non arrivo alle foglie, o meglio, magari qui ci sono arrivato, però qui, per esempio, non ci sono arrivato, come faccio a dare un valore ad uno stato che non è terminale? Non posso più usare la funzione di utilità, quella che abbiamo definito qui. È una funzione che vi dice quanto vale la fine di quel gioco. È una vittoria più schiacciante o meno schiacciante? È una patta o è una sconfitta? Ora, non possiamo più fare questo tipo di utilità. Dobbiamo fare, invece, ovvero implementare, una funzione di valutazione empirica che, ed è questa, ragazzi, che fa la differenza tra il mio scacchi e Stockfish. Cioè, se facciamo una partita tra il mio giocatore di scacchi e Stockfish, vince Stockfish, ma ne sono sicuro. Perché? Perché loro ci hanno lavorato tantissimo nell'implementare una funzione di valutazione ben fatta. Cioè, è una funzione che dica in questo stato intermedio, non è uno stato terminale del gioco, è uno stato. quali sono le probabilità che vinca Max o che vinca Min? Quindi è una proprio valutazione empirica delle probabilità di vittoria di un giocatore. Per esempio, nel caso del Tris si potrebbe dire in un certo stato quanti sono i Tris possibili per X, quanti sono i Tris possibili per Pallino. la differenza tra i due mi dà in un certo senso il vantaggio di un giocatore del giocatore Croce, ok? Se io faccio questo meno questo, se è un valore positivo significa che io ho più possibilità di vittoria per Croce rispetto a Pallino. Se invece la differenza è zero, diciamo che le probabilità sono uguali, equiprobabili. ok, beh, però questa funzione di valutazione cioè nel caso del Tris ok, banalmente numero di Tris possibili per Croce meno numero di Tris possibili per Pallino più o meno quella è, non è che ci si può scevellare più di tanto. Ma nel caso di giochi più complessi come si fa una cosa del genere? Beh, intanto bisogna soddisfare dei requisiti, deve essere corretta, cioè se io applico questa funzione agli stati terminali deve indurre lo stesso ordinamento. Cioè non può essere che questa funzione ha un bug che una volta dice che è in vantaggio max però se io vado ad una vittoria di max mi dà un valore che non è positivo. Quindi deve essere coerente questa funzione con anche gli stati terminali. Deve essere efficiente ragazzi perché se non è veloce da calcolare cioè se io una volta che mi sono fermato qui ci metto tanto tempo per valutare questo stato ma allora tanto valeva fare un'altra esplorazione quindi deve essere veloce da calcolare altrimenti sarebbe preferibile esplorare un po' di più il gioco. Beh deve essere precisa e facile a dirsi cioè dovrebbe essere proporzionale alle probabilità di vittoria del giocatore il giocatore è quello che stiamo massimizzando e inversamente a quello dell'avversario ragazzi nella realtà non è possibile cioè una funzione di questo tipo è complessa è talmente complessa che tipicamente dipende da più di un fattore di valutazione quindi tipicamente la funzione di valutazione è una combinazione lineare con pesi di determinati fattori del gioco per esempio negli scacchi un fattore di gioco potrebbe essere la differenza di pedine pedine mie nere meno pedine bianche e questo ha un certo peso una certa importanza però un'altra cosa che si dovrebbe valutare per esempio la difesa ci sono altre nei scacchi ci sono tante cose da valutare la posizione delle torri la posizione della regina soprattutto i pedoni non mi ricordo il termine tecnico però indica se ci sono dei pedoni a difesa della posizione corrente comunque ci sono tante cose da considerare la protezione del re sicuramente ci deve essere un fattore che valuta quanto è protetto il re in quel momento e penso che il peso sia ben maggiore per esempio della differenza delle pedine anche perché poi le pedine non sono tutte uguali quindi magari questa è la differenza tra pedoni poi ci sarà la differenza tra torri la differenza tra regine ci possono essere anche più di una regina se un pedone viene promosso a regina ci possono essere due o tre regine un giocatore potrebbe avere tre regine e sarebbe ovviamente un disastro se fosse il giocatore avversario quindi questo per dirvi che la funzione di valutazione è praticamente il cuore pussante dell'intelligenza artificiale quindi quando noi vediamo uno stockfish che ha battuto il campione mondiale di scacchi e l'ha battuto lo ha battuto non tanto perché il minimax ormai abbiamo capito che il minimax le prova tutte e se non le prova tutte ne prova tante ma perché ragazzi ci sono stati delle persone esperte del dominio quindi esperte di scacchi che hanno implementato una funzione fatta come si deve ecco la differenza tra il mio scacchi e lo scacchi del stockfish che mi batterà sicuramente non è tanto il minimax perché il minimax è quello è lo stesso algoritmo l'abbiamo implementato uguale a differenza che loro hanno sicuramente considerato tutta una serie di fattori che poi fanno la differenza nel battere il giocatore quindi è qui che si fa il vero la vera intelligenza del gioco ok però dobbiamo stare attenti ad una cosa quando noi decidiamo di fermarci ad una certa profondità il dove ci fermiamo determina se stiamo facendo una valutazione ottimistica o pessimistica perché perché se ci fermiamo ad un livello max cioè se ragazzi se noi partiamo da max e la nostra profondità è pari è un numero pari ci fermeremo ad un livello max perché max min max 2 min max 4 quindi ogni di pari causerà di fermarci a max ora vi faccio una domanda secondo voi fermarci a max è una valutazione ottimale ottimistica o pessimistica rispetto a max quindi di pari da punto di vista di max porterà ad una valutazione ottimistica o pessimistica delle probabilità di vittoria pessimistica perché perché ci porta sempre a una soluzione che min ha la soluzione migliore per vincere allora sì è vero che è pessimistica perché è pessimistica perché fermandoci a max non abbiamo considerato che lui qui potrebbe cioè vedete questo stato qui che noi gli stiamo valutando glielo stiamo valutando tramite la funzione di valutazione ma in realtà max avrebbe potuto lui fare un'ulteriore esplorazione e valutare il massimo tra le valutazioni dei suoi figli cioè ragazzi la funzione di valutazione è tanto più precisa quanto più in profondità andiamo addirittura arrivando alle foglie diventa proprio esattamente la funzione di utilità quindi se noi ci fermiamo a max la funzione di valutazione è meno precisa rispetto ai suoi figli e se avessimo fatto un passo in più max non solo avrebbe chiesto la valutazione dei suoi figli quindi una valutazione più precisa ma avrebbe anche fatto il massimo di quella valutazione quindi max avrebbe qui più informazioni se noi avessimo fatto un passo in più però il passo in più non l'abbiamo fatto e quindi queste informazioni non ce l'abbiamo e quindi povero max in realtà sta facendo una valutazione pessimistica se di e dispari e pari scusate ma se di e dispari è il contrario ci saremmo fermati a min e avremmo fatto una valutazione in realtà ottimistica perché in realtà min a sua volta non ha considerato le mosse migliori che poteva fare quindi ottima risposta quindi la scelta di D o è pari e avvantaggiamo l'avversario o è dispari e in realtà è è cioè in realtà è una scelta in entrambi i casi sconveniente o è pessimistica nel caso di D e dispari o è ottimistica nel caso di D e dispari se proprio volessimo fare una scelta dobbiamo sempre scegliere il caso peggiore quindi scegliere un D pari è per esempio preferibile perché è meglio fare una valutazione pessimistica che ottimistica perché ottimistica significa rischiare di perdere pessimistica significa che alla peggio facciamo una patta allora come si implementa questa cosa? molto 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 semplice eh oltre a propagare nella ricorsione il nodo cioè l'albero in cui ci troviamo il sottoalbero in cui ci troviamo propaghiamo anche un intero un intero D questo intero D è per esempio il taglio cioè dobbiamo dire dove fermarci e allora ad ogni nodo noi diciamo nodo a che livello stai? ora lo dici come fai a implementare questa cosa? eh vabbè si può per esempio pensare che struct nodo oltre a avere i figli c'ha pure un intero che dice a che livello sta e questa cosa noi la aggiorniamo quando stiamo creando l'albero eccetera in realtà si può fare molto più semplicemente ragazzi se noi questo intero ogni volta che se noi per esempio partiamo da D uguale 5 e ogni volta che lo passiamo a un figlio lo decrementiamo e lo passiamo per copia eh non per riferimento eh lo decrementiamo eh significa che ogni volta che lo passiamo un figlio lo decrementiamo quando diventa 0 eh significa che ci siamo ci dobbiamo fermare quindi non è necessario davvero implementare la funzione get livello del nodo basta semplicemente eh partire da D e ogni volta che andiamo giù decrementarlo quando arriviamo a 0 significa che dobbiamo fermarci e questo è quello che faremo nel codice ok però alla fine l'importante eh l'importante appunto è considerare che D pari è pessimista e D dispari è ottimista questo l'abbiamo già detto e soprattutto è importante considerare che più grande è D eh questo l'ho detto prima cioè più andiamo in profondità più la valutazione si fa precisa e più eh i max e i min fanno scelte ottimali per loro quindi noi vorremmo spingere questo D al vorremmo andare più profondo possibile secondo le possibilità del del computer cioè se siamo beh adesso ragazzi non vale più questo discorso ormai questi questi oggetti sono potenti quanto i computer eh però insomma se non abbiamo un super computer ecco se vogliamo battere eh che ne so davvero se vogliamo battere Stockfish per dire dovremmo per esempio quando Stockfish ha cercato di battere Google Deep Mind ha usato sicuramente un D molto elevato perché perché beh quello è Deep Learning ammazza dobbiamo spingere proprio al massimo le nostre possibilità però se stiamo invece giocando contro un essere umano da studi di psicologia eh è stato non dico dimostrato perché non è una scienza hard è una scienza soft però è stato diciamo si conviene pensare che anche i giochi i giocatori umani più bravi i campioni alla Kasparov ne so John Nash che giocava a Go in a Beautiful Mind sono molto intelligenti ma non riescono ad andare oltre di uguale 5 cioè loro quando anche loro si fanno mentalmente il loro albero di gioco magari non così però in qualche modo hanno una certa rappresentazione mentale e loro ragazzi è molto difficile quello che fanno immaginate un gioco di scacchi in cui ci sono 35 mosse possibili per ciascuna di queste 35 altre 35 o 34 eccetera e questo per 5 livelli una cosa del genere si ottene con molto allenamento ovviamente stiamo parlando di campioni ecco anche i campioni più bravi non riescono ad andare oltre le 5 livelli di profondità beh e se loro non ci riescono allora ciao ciao campione basta che noi scegliamo D maggiore di 5 per esempio 6 che tra l'altro è pure pari e quindi è pure una valutazione pessimistica come dicevamo prima e allora ciao ciao ai nostri campioni quindi per esempio se scegliamo 6 adesso abbiamo un 35 alla 6 siamo passati dal numero di atomi dell'universo molto di più a 10 alla 9 beh 10 alla 9 ragazzi cominciamo davvero a parlarne perché 10 alla 9 sono miliardi miliardi di passi di calcolo qual è il problema il computer se li fa miliardi di passi di calcolo tranquillamente in pochi istanti pochi secondi in termini di occupazione spaziale miliardi sono ancora dei gigabyte ok però 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 con calma ci possono ci si può ragionare perché magari vi rianticipo che non è necessario davvero copiare la matrice di gioco a ogni stato del gioco cioè noi ecco questa è una cosa che ci tengo a dirvi anche perché non abbiamo molti minuti quindi preferisco spingere un po' di più su questi concetti e la prossima volta partire subito con l'implementazione noi ripeto la difficoltà di queste intelligenze artificiali non è tanto il minimax quello alla fine l'algoritmo sta lì sulle slide e lo ho implementate la difficoltà è capire come creare questo albero di gioco ok soprattutto a livello di memoria gli studenti le prime volte che venivano a ricevimento o nei laboratori in presenza in quel caso dicono proprio insomma io sta matrice di gioco e se ogni volta la devo copiare per farci le simulazioni quindi fare una copia fare una copia fare una copia presto io ho 4 gigabyte sul computer e mica posso stare qui a fare tutte ste copie non ce la faccio ovviamente stavano implementando scacchi stavano implementando il gioco della dama non ce la facevano e allora mi sono messo con loro in realtà già sapevo la risposta ovviamente però ho cercato anche di farla scoprire loro la risposta e vorrei farla scoprire anche a voi chiedo a voi se non possiamo perché non possiamo ragazzi non possiamo fare le copie della matrice di gioco perché come vi ho detto come nel caso degli scacchi qui siamo ancora a miliardi cioè gigabyte di memoria per fare solo di uguale 6 solo per fare una profondità 6 siamo ancora a diversi gigabyte tra l'altro gigabyte attenzione questi sono nodi poi dobbiamo moltiplicarlo per quanto occupa uno stato di gioco nel caso degli scacchi sono mi pare 8x8 sono 64 caselle quindi 8x8 char 64 byte 64 per 1,8 gigabyte fa più o meno 120 gigabyte ora nessuno di noi ha 120 gigabyte di ram siete d'accordo con me beh noi qui abbiamo una macchina con 500 gigabyte di ram però non è ovviamente necessario usare una macchina per fare questo tra l'altro mi pare che Stockfish funziona anche sullo smartphone quindi voi sul vostro smartphone che sicuro non ha 120 gigabyte potete far girare un giocatore artificiale di scacchi come Dio comanda beh allora qual è la soluzione se non si deve necessariamente copiare lo stato di gioco come faccio io a simulare già sto ponendo la domanda per suggerirvi la soluzione come faccio a simulare le possibili partite e vi dico che l'indizio sta in una cosa assolutamente innocente sta nell'applicazione Notepad questo è del 2019 però quello che abbiamo fatto l'altra volta l'indizio sta nel Notepad dove sta il Notepad non c'è il Notepad di quest'anno vabbè starà sicuramente qui Notepad di quest'anno non sono in ordine alfabetico ok finalmente dove sta la soluzione questo qua in realtà non sta solo nel Notepad sta in tutti praticamente di software in cui si editano dei documenti allora io faccio una cosa scrivo un'altra cosa ne scrivo un'altra ora questo che vi ho dato è il suggerimento e la vostra risposta adesso vorrei che qualcuno di voi si cimentasse come posso eseguire il nostro algoritmo minimax senza allocare memoria per gli stati di gioco dei nodi dell'arbero di gioco prego provate a cimentarmi soltanto diciamo ok sono io puoi ripetere soltanto diciamo della mossa che va a fare cioè un delta diciamo della mossa che va aggiunta a mano a mano cioè si usa lo stesso stato di gioco però cambiando una sola parte una piccola parte cioè si tiene con soltanto della piccola parte che va cambiata ma non dell'intero stato di gioco nuovamente eh però la piccola parte che va cambiata la devo comunque mettere nella ho capito però la piccola parte va comunque messa dentro non ne so in questo caso la matrice ci devo mettere comunque la x dentro la matrice se no le nostre funzioni di valutazione vorrete come fanno a dire questo vale così questo vale colì e poi poi questa cosa si complica perché tenendo solo conto del delta poi dovrei quando vado avanti nella esplorazione tenere conto di tutti questi delta e poi di nuovo la funzione di valutazione comunque penso secondo me sta dicendo la cosa giusta solo che forse sono io che non ho che non ho capito la no va bene io penso che quello che ci voleva far vedere col notepad è che non è che lui salva ogni documento diverso cioè ogni salva dei diversi documenti con tutto quanto scritto ma cambia soltanto quel il pezzo che è cambiato da uno all'altro ok ok più o meno è quello che intendevo dire allora il trucco ragazzi è l'andu cioè mantenere come dice il suo collega il vostro collega il delta cioè la storia delle operazioni che sono state effettuate delle mosse che sono state effettuate quindi anziché copiarmi ogni stato di gioco e mettendoci la mossa lì dentro e copiarmi ogni stato di gioco e mettendosi la mossa lì dentro perché non fare invece proprio una simulazione di tutte le partite possibili che significa simulare ragazzi significa che se io adesso devo mettere la croce qui io la croce ce la metto davvero non copiando questa matrice da lì ma mettendocela proprio qui ok e poi qui mettendo il pallino e altre cose il problema quale ragazzi il problema è che quando poi dovevo risalire in questo albero io vado nella foglia ottengo questa vittoria sconfitta in realtà però poi devo risalire che significa risalire ragazzi significa fare l'andu quindi andu andu faccio questo andu andu faccio questo andu andu faccio questo faccio questo faccio questo andu faccio questo faccio questo andu andu faccio questo faccio questo andu eccetera eccetera cioè ragazzi la chiave per non usare memoria supplementare o meglio comunque se ne usa un po' di memoria supplementare perché come dice il collega devo memorizzare questi delta questi delta sono la lista di mosse fino a quel momento che sto eseguendo fare l'andu significa fare l'inversione cioè invertire la mossa quindi nel caso del triste è semplice invertire la mossa significa cancellare il pallino o la croce messa in quella posizione ma nei giochi più complessi come gli scacchi invertire la mossa non sempre è così semplice perché in alcuni casi la mossa è una semplice cambio di posizione in altri casi la mossa contempla una mangiata di una pedina quindi in quel caso invertire la mossa significa quella pedina che era stata mangiata bisogna rimetterla nella scacchiera nella posizione originale ma il trucco è proprio questo ragazzi non si può utilizzare tutta la memoria cioè non si può replicare la scacchiera non si può proprio fare ragazzi non ce la fa la macchina quindi la cosa migliore da fare è implementare un sistema di undo quindi io vi sto già dicendo a voi che vale anche per quelli che faranno Monte Carlo non vale solo per minimax ma anche per chi fa Monte Carlo voi dovreste già adesso immaginare, progettare il vostro gioco per supportare la funzionalità di undo perché quando farete l'esplorazione del labbro di gioco voi non vi potete permettere di fare le copie della matrice di gioco quindi non potendovi permettere dovreste fare proprio delle simulazioni arrivati ad un certo punto vi fermate dovrete tornare all'origine tramite gli undo e quindi non supisce che non solo la mia versione di scacchi cialandù adesso non so perché non è partito addirittura ma così ho crashato perché gli piaceva crashare sempre funzionato all'improvviso crash vabbè ci sarà un bug che in questo momento mi sfugge e vabbè lasciamolo crashare che vi devo dire forse non era esattamente quello no, non quello vabbè comunque tutti i giochi anzi fatemi prendere quello implementato dai ragazzi quello implementato dai ragazzi che sta in in sta qui obbligazioni proposte svolte negli anni precedenti c'è lo scacchi lo scacchi me lo metto me lo metto qui lo posso mettere qui allora lo metto qui lo estraggo qui prendiamo quello dei ragazzi che ovviamente è fatto meglio del mio perché ci hanno lavorato assai nuova partita vabbè difficoltà facile pensando ho fatto delle mosse e c'è l'Handu ora il fatto che ci sia l'Handu non è perché per dare diciamo una funzionalità aggiuntiva all'applicazione tutti ragazzi tutti i giochi con minimax quindi praticamente ragazzi tutti i giochi che hanno un giocatore artificiale su giochi di telecombinatori quindi a scacchiera scacchi dama bengammon go eccetera hanno tutti la funzionalità Handu ma la funzionalità Handu non è fatta tanto per far contento l'utente ma perché serve all'intelligenza artificiale per tornare indietro fare altre simulazioni tornare indietro e farne altre e tornare indietro quindi tutto questo per dirvi ragazzi predisponete la vostra applicazione se avete un giocatore artificiale basato su minimax o Monte Carlo predisponetelo per l'Handu perché l'Handu vi servirà e se l'Handu è buggato ovviamente l'intelligenza artificiale sarà buggata e non funzionerà quindi l'Handu testatelo a manetta deve funzionare benissimo l'Handu se non funziona bene ripeto non funzionerà nemmeno l'intelligenza artificiale bene la prossima volta la prossima volta appunto implementiamo il tris con minimax con taglio e vediamo se siamo in grado di fare un giocatore di tris imbattibile ovviamente speriamo di sì ok la lezione termina qui ho iniziato in orario e come promesso termino all'orario previsto ho iniziato e come promesso e come promesso la prossima volta